Ciao a tutti da Valeria. Dopo il video, Sasha Baron Cohen abbandona il biopic su Freddie Mercury. Aspettatemi lì. Sorpresa! Boom! Obbligo a verità? Obbligo. Vedi quel bambino cieco? Spegni le candeline sulla torta prima di lui. Comic Movie, al cinema. Sasha Baron Cohen è stato per molto tempo accostato al nome di Freddie Mercury. L'attore infatti avrebbe dovuto interpretare il leader dei Queen nel biopic a lui dedicato. Era stata affissata una data di inizio delle riprese, prevista per la primavera del 2014. Però la situazione è precipitata, come ha riportato Deadline. Sasha Baron Cohen ha ufficialmente abbandonato il film, ahimè. Il motivo pare essere dovuto a divergenze artistiche con i restanti Queen, che volevano dare alla pellicola un tono da film per tutta la famiglia. Sasha invece avrebbe voluto realizzare un film ritratto molto più controverso, e secondo me anche più interessante. Senza dubbio una grande perdita per il progetto, considerando la grande somiglianza tra l'attore e il cantante e la sua bravura. Vi terremo comunque aggiornati sugli sviluppi di questo biopic, naturalmente. Per oggi è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Film is Now. Ciao e alla prossima!